Uno degli indagati aveva convertito il proprio negozio di animali in un nascondiglio di sostanze stupefacenti, con hashish, cocaina e marijuana nascosti fra le scatole di mangiumi per animali. Tutto questo però non ha tratto in inganno Enno, il pastore tedesco del nucleo cinofili di Vibo Valencia, il cui fiuto ha guidato i carabinieri a trovare sostanza stupefacente per oltre 100.000 euro.